Amici di GAN, ben ritrovati ad una nuova puntata della nostra trasmissione. Oggi ci spostiamo a Roma per un evento che è partito lo scorso 23 ottobre presso il Maxi, il Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo. La mostra che siamo andati a visitare è quella del maestro Altan e del suo personaggio più famoso. Parliamo della Pimpa, nato nel 1975 sulle pagine del Corriere dei Piccoli e poi in seguito è divenuto anche un famosissimo personaggio dei cartoni animati trasmessi dalla Rai. Bene, prima di lasciarvi al servizio, vi ricordo che questa mostra, denominata Pimpa, Cipputi ed altri pensatori, rimarrà esposta fino al 12 gennaio del 2020. Bene, adesso non voglio più rubare altro tempo alle immagini e dare la parola al mio amico Ugo Dorazio che è lì per noi pronto a farci entrare in questo fantastico mondo, il mondo di Altan. Oggi visiteremo insieme a voi la mostra di Altan, questo grande artista al Maxi di Roma, il Museo del XXI secolo, il Museo degli Artisti. Andiamo a cercare di scoprire la poetica di questo grande artista, il suo lavoro intellettuale e scoprire cosa ci vuole raccontare. La retrospettiva è una coproduzione della Fondazione Solaris e di Franco Cosimo Palini, organizzata da Anne Palopoli e da Luca Raffaelli e si suddivide in sei momenti. Altan, prima di Altan, dove vediamo gli schizzi dell'autore che cerca di trovare un suo stile. Ci sono qui materiali inediti che hanno preceduto i suoi esordi. Altan, dopo essere andato negli anni 70 in Brasile, aveva collaborato con una rivista per bambini che gli aveva pubblicato le sue storie e torna nel 73 con Trino per la rivista Linus e questo è proprio il lavoro dei suoi esordi. Trino, ecco, lo vediamo, è un dio incaricato da un altro dio che incarica Trino di fare il mondo, di costruire il mondo. E' interessante vedere proprio qui in queste tavole il lavoro dell'artista che parte da un foglio bianco e da lì crea. Ed eccoci qua, entrati nel mondo delle vignette di Altan. Il mondo di Ciputi, il famoso operaio, sempre per le riviste satiriche o per Panorama, per Repubblica, per tanti giornali, l'Espresso. Qui il mondo di Altan è veramente più triste, dove ci sono pensionati, signore, casalinghe, operai, appunto, che ci mostrano l'Altan, quello di un mondo un po' più cupo. Questo è l'Altan del famoso ombrello. Siamo entrati nel regno appunto graffiante di Altan, dove è quello più conosciuto con i suoi personaggi cinici e appunto questi personaggi appaiono ai nostri occhi sempre rassegnati alla triste vita quotidiana, con uno sguardo sempre un po' assonnato. Ecco, quasi sottomessi al loro mondo e alle vicende che li circondano. Famosissimo, abbiamo detto Ciputi, però è saggio, ha sempre la risposta pronta e commenta la sua dura vita di operaio nelle vignette. Il fileton. Qui ci sono addirittura 90 tavole originali di Macao. che è uscito nell'84 per la rivista Corto Maltese. Poi qui ci sono le tavole di Ada, che è stato anche, oltre a un fumetto, anche ripreso nella sua esperienza in Brasile con una troupe guidata dal regista Gianni Amico. Altri fumetti per cui Altan ha collaborato sempre con Linus, era Casanova, sempre tante tavole a fumetti per Linus, sempre poi troveremo anche Cristofolo Colombo, Ada, Franz, che poi è San Francesco. Qui un altro fumetto, Zago Oliva. Sopra Cuori Pazzi. Qui stiamo vedendo l'Altan illustratore per alcune favole di Rodari, per Piumini e Desimone. Qui giù vediamo il naso di Gogol, sempre per le illustrazioni. Il Pettirosso Pippo, che è uno storyboard del 94 e già prelude ai suoi cartoon. Fra poco entreremo nel magico mondo più conosciuto, che sarà quello della Pimpa. Ed eccoci finalmente entrati nel mondo della Pimpa. Qui è pieno di bambini, è il mondo magico, è il mondo buono. A differenza di quello delle vignette di Altan, è il mondo più edulcorato. Quello che prima nel Corriere dei Piccoli, nel 75, è stato fatto per questo Corriere dei Piccoli e poi successivamente è stato anche un cartone animato che tutti conoscono. Il primo cartone animato lo animò addirittura Osvaldo Cavandoli, sappiamo, l'autore famoso della linea. Qui l'ammarezza dei personaggi per le vignette sembra essere scomparsa. Qui ci troviamo in un mondo di gioia, magico, ideale, dove regna soltanto la pace. La Cagnolina Pimpa è curiosa, vuole scoprire tutte le cose, proprio come fanno i bambini. È generosa, vive in un mondo dove non ci sono nemici, dove soltanto qualche rimprovero lo può fare il suo Armando. Ma la Pimpa è amica di tutti, dei fiori, degli altri animaletti, della luna. Ma Altan sembra quasi voglia dirci che con questo personaggio, questo mondo è il mondo che vorrebbe, diverso dal mondo reale, pieno di problemi, della quotidianità, che ci rendono brutti, indifferenti. Insomma, stiamo viaggiando nel mondo di un grande artista che ci racconta la sua visione delle cose, che ci dice come sarebbe bello un mondo felice come quello della Pimpa. Camillo Gromo è anche un altro personaggio di Altan, nato sempre per le illustrazioni di libri per bambini, ma nel 1993 è diventato anche un cartone animato. Io ho avuto l'occasione di lavorare per la Lanterna Magica, per Enzo Dalò, che ha diretto questo cartone animato, insieme a tanti amici, anche Francesco Artibani, e nello studio di Vitolo Russo, dove abbiamo animato la storia di Camillo Gromo. Anche qui la storia di Camillo Gromo è molto bella, parla proprio di un giovane camaleonte, e come tutti i camaleonti all'inizio erano rossi, quindi deve imparare a mimetizzarsi, a cambiare colore, se no i corvi lo mangiano. Ci sarà poi un episodio divertente, dove un professore camaleonte, che però avrà difficoltà a cambiare colore, così sarà aiutato proprio dai suoi allievi, che dovranno salvarlo. Altan è un artista totale, che passa dalle vignette all'illustrazione, al mondo della pimpa. Pare che sia proprio quello il mondo dove si voglia rifugiare, quando il mondo troppo cupo delle vignette lo fa arrabbiare. Lui ama dire che il mondo della pimpa è proprio quello che vorrebbe che sia, mentre quello delle vignette è il mondo come è. Ciao a tutti! Grazie, grazie Ugo per questo bel servizio. Noi a questo punto siamo arrivati alla conclusione di questa nuova puntata di GAM. Prima di salutarvi, ovviamente, vi ricordo come sempre i nostri appuntamenti sui social e sul sito, quindi Facebook Amici di GAM e il sito è www.gamtv.it. Io vi ringrazio anche questa settimana per essere stati con noi, vi ricordo i nostri appuntamenti TVR Voxon ogni martedì alle 19.10 e il mercoledì alle 14.20 circa, mentre su supersix.it ci potete seguire ogni mercoledì alle 20.45 e la domenica alle 16.30. Da Marco è tutto, grazie per essere stati con noi, adesso arriva come di consueto la nostra sigla finale. Alla prossima settimana, ciao! GAM, 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 GAM Grazie a tutti.